Vedo un assaltatore nemico! Ho lanciato una granata, via! Si stanno facendo arretrare. Non il fuori! Conquista l'obietiglio! Torna nella zona di combattimento Mitragliatrice Forza! Ecco dei proietti! Proiettili! Ecco qui! Abbiamo conquistato l'obiettivo Delta Ecco qui un po' di munizioni Conquista l'obiettivo Echo Conquista l'obiettivo Delta Conquista l'obiettivo Delta Ecco qui un po' di munizioni Granata partita! Occhio alla testa! Ecco qui un po' di munizioni Proiettili! Ecco qui! Un po' di munizioni avanti! Una bella partita! Tenete giù la testa! Polizioni avanti! Proiettili! Proiettili! Ecco qui! Proiettili! 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 Pronte delle munizioni! Occhi aperti! C'è un assaltatore! Laggiù! Quello è un trucco! Guardate! Ci penso io, a quanto spieghi? Grazie! Medico, è tu! Forza, ecco dei proiettili! Pronte delle munizioni! Prendi! Munizioni! Vedo un assaltatore nemico! Prendi! Munizioni! 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 Avanti! Munizioni! Granata mercato, occhio! Prendi! Munizioni! Grazie! Munizioni! Questa è una killa vendita! Monizioni! Attenzione, mitragno 3 gen meca! Un'altra��가! Un'altra guerra! Un'altra guerra! Un'altra guerra! Ecco un po' di proiettili. Ecco qui un po' di munizione. Conquista l'obiettivo Gold. Ecco dei proiettili! Già è nata partita! Tenete giù la testa! Oh! Ci stanno facendo arretrare. Ci stanno facendo arretrare. Un po' di proiettili! Questa è stata pronta! Un po' di proiettili! Un po' di proiettili! Un po' di proiettili! No! Ecco, una granata per l'aria! Proiettili! Ecco qui! La granata è in volo! Proiettili! Proiettili! Prendiamoci la guardia! Forza, andiamo! Danciò per la meta, occhi! Pronte delle munizioni! Ecco le munizioni! Granata partita! Tieni giù la testa! Ci stanno facendo arretrare. Ci stanno facendo arretrare. Qui si tratta? Che stanno facendo arretrare? Deve essere venuto! È un pezzo! 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 Conquista l'obiettivo Echo. Ho una seconda granata, via! Ci stanno facendo arredare. Ecco, munizioni! Munizioni, avanti! Mitragliatrice nemica localizzata! Conquista l'obiettivo Echo. Visto? Un assaltatore! Ora! Cari! Corico! Visto! Corico! Alli- Asi- Pič! Nii acc现在! Sproiettili! Ecco qui! Ci stanno facendo arretrare. Prendi! Munizioni! Grazie! Conquista l'obiettivo Charlie. Questa granata è tutta per me! Grazie! Granata lanciata! Conquista clare! Voi scelto! Chiare! Questa granata è il sizesito. Ci sono ieri! Questa granata è scelta! La roba è scelta! Via, via! Ecco un po' di proiettili. E' ora di muoversi. Ecco un po' di proiettili. Conquista l'obiettivo bravo. Qualcuno può curare le mie ferie. Prendi! Munizioni! Grazie! Medico, laggiù! Granata lanciata! Occhio! Ecco! Munizioni! Abbiamo conquistato l'obiettivo bravo. Ecco! Munizioni! Ehi! Vedo un assaltatore! Conquista l'obiettivo Charlie. 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 Torna nella zona di combattimento. Mitragliatrice nemica! Visto? È un medico nemico! Ehi! Là c'è un medico nemico! Vedo un assaltatore nemico! Occhi aperti! C'è un ricognitore nemico! Vedo un assaltatore nemico! Torna nella zona di combattimento. Visto il sogno di te! Torna nella zona di combattimento. Torna nella zona di combattimento. Torna nella zona di combattimento. La battaglia è da questa parte, soldati! Avanti! Da questa parte! Torna nella zona di combattimento. Amico, torna qui! Abbiamo fatto tutti! E adesso, sergente! Ho lanciato una granata! Via! Ecco qui un po' di munizioni! Squ meno forte! No, no! We hanno fatto tutti! Ne cremate, tutti i nostri! Non me vuoi! Stiamo Ho lanciato una granata, via! Ecco le munizioni! Tieni, munizioni! Ecco dai proiettili! Poi attenzione! Granata partita! Tenete giù la testa! Ecco dai proiettili! Ecco dai proiettili! Eccolo dai proiettili! Confusi dall'obiettivo bravo. Questa è tutta per loro! Confusi l'aveto! Ecco dai proiettili! Granata partita! Tenete giù la testa! Forza! Ecco dai proiettili! Proiettili! Ecco qui! Prezzo ciò che hai fatto! Occhio! Granata partita! Prendi! Munizioni! E ora lanciano la granata! Munizioni avanti! Munizioni! No! 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 Assaltatore localizzato! Tieni! Munizioni! Ecco le munizioni! La! Vitragliate il Cerenica! Vitragliate il Cerenica! Grazie a tutti.